Sono numeri positivi quelli che si sono registrati fino a oggi a 5 anni dall'apertura del Lucca Museum e che hanno visto circa 250.000 visitatori frequentare il Museo Lucchese, sia per le esposizioni che per le molte attività collaterali, sempre legate con l'arte e la cultura. I successi delle mostre dello scorso anno, oltre 54.000 visitatori dei quali 3.000 bambini, in particolare quelle di Antonio Ligabue e la più recente su Enric Artie Bresson, hanno stimolato a creare anche per il 2014-2015 un programma importante che si articolerà in tre tappe salienti. L'arte del Novecento, con opere di Cattelan, Cristo, Vedova e gli altri esponenti fondamentali del secolo scorso, la retrospettiva del grande fotografo Robert Capa, che sancisce anche per i prossimi anni e la collaborazione tra il museo e l'agenzia francese Magnum, e infine l'approfondimento legato ai macchiaioli, riscoperti attraverso l'importante collezione Mario Toragoni, un programma ambizioso per una realtà sempre più inserita nel tessuto cittadino. Il museo però, il Museo Lucca ha anche dei precisi obiettivi per il futuro, cioè nel senso che vorremmo che fosse più radicato in città, che gli stessi lucchesi sentissero come una cosa loro, una cosa propria. Al turista che arriva in città, che qualunque lucchese, qualunque attività commerciale sia partecipe, nel senso che è scontato che cosa offre il museo, che cosa si può offrire a quel singolo turista. Quindi ci vuole una concertazione, cioè da parte di tutta la città che vive questa realtà museale, ma anche, diciamo così, che possa interloquire con tante altre diverse realtà museali che sono di enorme importanza presenti in città. Grazie a tutti.